E' terminato l'incontro qua a Colonnella, vince di termo, tra le nostre ragazze qua, la risa giallorosso, risultato finale 8 a 2, no, 8 a 0, 8 a 0 a favore del Colonnella. E' bisogna dire che il Colonnella si è dimostrato più forte di noi, è accreditata come una delle squadre favorite a vincere il campionato, ottimo arbitraggio del signore Tribugliani della sezione di Teramo, 8 a 0, nemmeno un gol della bandiera. Buonasera, alla prossima gara, la prossima gara è l'esordio in campionato delle nostre ragazze, sempre in trasferta a Carpineto della Nora, provincia di Pescara. Grazie. Grazie. Grazie.